Siamo arrivati alla fine della terza rassegna e è stato un grande successo, lo vediamo insomma dalle presenze numerose di stasera e anche dalle presenze degli altri appuntamenti. Anzitutto un grazie appunto a tutti i soci, tutti voi che siete qua in sala, tutti i soci sostenitori, soci che si sono destrati anche soltanto consapevoli di venire solo con un appuntamento per sostenere un progetto che voleva riportare alla Mezzia il cinema, tra l'altro nel bellissimo contesto del Teatro Umberto e avendo delle piccole finestre sul mondo, così come ci piace dire, come ormai siete abituati a sentire, su tematiche che ci stanno molto a cuore. Dobbiamo dire anche grazie agli sponsor, tutti i vari sostenitori a diverso titolo ed è giusto ringraziare, come dicevano anzitutto voi, abbiamo fatto veramente un record di tesserati quest'anno e abbiamo avuto anche ovviamente il supporto dei nostri partner, iniziali da scenari visibili che è adesso possibile la visione dei film in un ambiente più confortevole, con uno schermo così come vedete, con l'assistenza tecnica che sapete, insomma che avete a disposizione vedendo questi fantastici film. E diciamo grazie anche al sistema bibliotecario Lamedino che ci ha supportato in questo progetto, anche quest'anno, e ai diversi partner che hanno contribuito a diverso titolo, la tipografia Perdi, la Giogodino, l'associazione Fata Morgana, l'agriturismo Costantino, gli Fissi Cantafio, Baleno e anche l'associazione Anti-Rugget La Messia. A tal proposito invito a raggiungermi Tommaso De Pace che è segretario dell'associazione e ci dirà nel dettaglio i risultati raggiunti dal manifesto della campagna del consumo critico. Adesso ci dirà maggiori dettagli e come sapete noi abbiamo sostenuto come associazione questo progetto. diversi nostri soci, appunto, tra di voi, hanno sottoscritto il manifesto e adesso vediamo un po' che i risultati ha raggiunto fino adesso. Buonasera a tutti e grazie a me un'associazione che ci ha coinvolti in questa iniziativa. Vi do un po' di una contezza di come sta andando questa campagna del consumo critico. Questa idea del consumo critico è quella di riunire una serie di imprense, di imprenditori commerciali, artigiani, professionisti, che, come dire, sottoscrivono un impegno a non pagare il pizzo. Queste imprese entrano a far parte di una guida, una guida consultabile online e che poi abbiamo anche stampato. Sta cosa funziona nella misura in cui c'è un impegno, come dire, morale anche da parte dei consumatori ad andare a spendere i loro soldi di dove ci sono queste imprese che hanno fatto una scelta. Sull'onda chiaramente non ci mettiamo nulla, seguiamo quello che è stato il know-how di Addio Pizza a Palermo. Se vi ricordate, tanti anni fa attaccarono quei manifestini che era un popolo che paga il pizzo, un popolo senza libertà. Da allora a Palermo sono andati avanti su questo progetto e ci sono già a Palermo mille imprese che hanno sottoscritto questa cosa e che hanno appiccicato il loro pollino e sono riconoscibili. Noi siamo un po' di un indietro, chiaramente, però stiamo lavorando. Stiamo lavorando e abbiamo le nostre mille imprese già iscritte nelle regioni Obiettivo 1 che sono Sicilia, Cattania, Calabria, Cuglia e basta. In Calabria siamo circa 150 e stiamo andando avanti. Con l'aschiuto anche dell'Associazione 1 abbiamo raccolto queste firme su questo manifesto. chi mi chiede quando l'ha fatto, vi chiedo di farlo, c'è sul banchetto questo manifesto nel quale chiaramente non intendo solo morale a sostenere questa cosa. A parte questo, l'Associazione sta lavorando in Calabria per far nascere altre associazioni, probabilmente ne sta uscendo una su Cosenza, lì ci sono degli imprenditori che hanno denunciato, ci sono dei processi in corso. Anche lì abbiamo visto, non credo, pensavamo che Cosenza fosse un'isola un pochino più felice, invece anche lì ci sono grossi problemi di racket e di usura. L'altra iniziativa che stiamo portando avanti è chiaramente il Trame Festival. Ho fatto vedere agli amici che mi è appena arrivato il logo nuovo dell'edizione 4, sarà dal 18 al 22 giugno. Stiamo facendo la raccolta fondi perché, come sapete, quest'anno c'è un po' di problemi con il finanziamento da parte del Comune, per il dissesto, ma immaginiamo di potercela fare. Anche per questo l'Associazione ci aiuta a raccogliere dei fondi e chi vuole farlo all'uscita c'è un blocchettino per sottoscrivere. Oppure può farlo online www.tramefestival.it Questo è un esempio di rete che siamo riusciti a fare quest'anno. Rete l'abbiamo fatta con tante associazioni, abbiamo avuto diversi ospiti con interventi veramente profondi e interessanti e questa è una cosa che ci è piaciuta fare. È stata una rassegna veramente emozionante, ve lo diciamo tutti quanti, insomma ne siete consapevoli ed è emozione, ce n'è anche stasera perché quest'anno la rassegna finisce quindi al decimo appuntamento, è stata una rassegna impegnativa, però grazie a tutti quanti, grazie a tutti quelli che si sono impegnati siamo riusciti a portarla avanti. Chiaramente finisce la rassegna per il momento, ci saranno sicuramente delle altre occasioni, quindi tenete sotto controllo l'email e presto magari vi faremo sapere di nuove iniziative interessanti alla mezza e magari non solo. E a proposito comunque di impegno vi vogliamo ricordare anche di inviarci comunque le vostre proposte, i titoli dei film che vi sono più piaciuti guardandoli a casa vostra e che vorreste proporre per vederli tutti insieme all'interno di una. Mandateci le vostre proposte, magari motivate facendo un breve accenno del perché pensate che possa essere un bel film da condividere con tutti quanti noi e così contribuirete quindi alla lista finale su dei film che verranno proiettati eventualmente l'anno prossimo o magari nei prossimi mesi appunto prima. Quindi a questo punto entriamo un pochino più nel vivo della strada di stasera e iniziamo con una presa di posizione. La presa di posizione è che una è contro l'omofobia, lo vogliamo dire a chiare lettere, lo vogliamo dire con un bel film che parla d'amore. E a questo punto invito a raggiungermi l'ospite di stasera, Marco Marchese, prego. È un piacere avere Marco che tra l'altro è molto attivo nel settore, leggo il titolo che abbiamo comunicato anche per i mail, Marco è segretario del centro di iniziativa locale dell'Associazione Certi Diritti Calabria e responsabile dell'osservatorio politiche di genere e poi opportunità presso la Camera del Lavoro della CGL Catanzaro-Lamenzia Terme. Adesso lasciamo subito la parola a lui così ci farà un bel intervento, vediamo nei contenuti. Grazie. 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 Grazie alla situazione Lula. Io sono piacevolmente colpito perché la partecipazione stasera è notevole, il clima molto bello, rilassato e penso che sia proprio il clima più adatto per affrontare questa proiezione. È una proiezione che parla d'amore, però affronda un tema che è quello dell'uomo-affettività. Come vedete non ho utilizzato il termine omosessualità, non è un termine che io amo perché non descrive, voglio dire, questa caratteristica. Io per, diciamo, semi-professione, il 100% del mio tempo libero e anche qualcosina di più lo dedico proprio per la comunità LGBT, che cos'è questo acronimo? Lesbica, gay, bisessuali, transgender. In Calabria c'è una forte necessità di discutere dei diritti della comunità LGBT perché è una comunità ancora nascosta, sottovalutata, ma che c'è, è pulsante, c'è un fiorire di associazioni e di attività. Però questa sera volevo fare un'operazione un po' diversa perché non siamo chiaramente in un contesto di un dibattito pubblico per cui non vi ho portato i miei dieci minuti di interventi tutti proiettati sui diritti, stile comizio, cioè, è la proiezione di un film, un film importante, affronta questo tema. Sarete poi dopo chiamati voi, ognuno, diciamo, individualmente, a fare le proprie valutazioni, le proprie valutazioni, le proprie riflessioni, i propri pensieri su ciò che avrà visto. E quello che si vede, dopo ci sarà chiaramente una nota introduttiva di critica a questa proiezione, però io voglio fare un semplicissimo accenno. Quello che ci insegna questo film è che l'amore è universale e forse, appunto, nel non portarvi una, diciamo, il solito intervento sui diritti, le paro opportunità, eccetera, eccetera, vorrei in otto, nove minuti offrirvi un mio piccolo inedito, una chiave nuova. Spesso a questo tipo di proiezione si potrebbe accostare alla poesia. Io però ho un'altra passione, una passione per le favole, o una passione per le favole per grandi. Attenzione però, cioè le favole per grandi, nel senso per le persone adulti, in realtà questa favola è una favola che parla ad ogni bambine, ad ogni bambino che c'è dentro di noi, solo però ed esclusivamente nel momento in cui bussiamo anche la porticina e lo tiriamo fuori. E anche questo voglio, diciamo, lasciarvela insieme alla proiezione del film senza aggiungere altro e volevo brevemente leggervela con l'augurio e la speranza che questo possa essere una buona introduzione proprio alla visione di questo film importante. Questa favola per grandi si intitola Il sole e il fiorellino. C'era una volta un mondo lontano, lontano, tanto lontano che nessuno sapeva dove era, nascosto nell'angolo più bello dell'universo. Era un mondo bellissimo perché non solo conservava tutti i colori esistenti, ma era il posto dove i colori nascevano ed era abitato solo da piante che amavano appunto giocare proprio con i colori. C'erano alberi, alti alti e bassi bassi, erbe di tutti i tipi, coloratissime, fiori grossi grossi e sottili sottili, tantissimi fiori, dipinti da molti più colori che possono esistere. A contarle l'impossibile perché ce n'erano proprio così tanti di fiori ed erano proprio questi che giocavano di più ad inventarsi colori, sempre di nuovi e con le sfumature più stravaganti, che poi, portati dalle comete ogni dove, dipingevano l'universo. Le comete ci avevano provato a contarle tutti questi fiori, ogni volta che passavano da lì, ma erano così tanti che perdevano il conto, soprattutto quando le stavano emozionate dalle nuove sfumature bellissime che i fiori amavano inventarsi. E lo facevano proprio perché la loro felicità si estrimeva emozionando le comete, sapendo che queste viaggiavano esplorando l'universo. In questo modo li facevano vedere in tutti i mondi esistenti questi colori favolosi, che a guardarli si restava incantati, come quando lo stupore ti sorprende, resti a bocca spalancata e con gli occhi che non credono a quello che stanno vedendo. Gli alberi, fissi e immobili, erano scossi solo dall'abbrezza leggera che ogni tanto soffiava, ma la cosa divertente era quando i funghi spuntavano la notte e soledicavano i loro piedi. A loro piaceva tantissimo questo gioco, e quindi per far piacere ai funghi, per fargli capire che si divertivano, gli alberi facevano cadere delle foglie verdi ed era il loro modo di accarezzare tutti quei funghi allegri e giocosi con i piedi degli alberi. Poi, fra tutte, c'era un'erba verde, 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 molto particolare, perché sprigionava un profumo così intenso e piacevole che a restirarlo si diventava subito felici e o ci si addormentava facendo sogni fantastici oppure si rideva a dire basta. Su questo monto lontano o lontano un giorno raccò un fiorellino, bello e colorantissimo. Questo fiore adorava il sole e non faceva altro che guardarlo dall'alba al tramonto seguendolo coi petali verso il cielo per non perdersi nemmeno il raggio di questo sole buono e amorevole. E quando scomparivano orizzonti i petali si chiudevano e insieme al feduncolo riassumevano la forma di un bocciolo per proteggere il tesoro, cioè il grano di polline, la vita. Però il fiorellino lasciava sempre un paio di petali un po' aperti così da quella fessura sottile sottile poteva guardare la luna seppur pallida, la luce che ne veniva riflessa era sempre dal suo sole e non gli dispiaceva questa luce e quella luna era la luce e la luna degli innamorati e si faceva a quel modo accompagnare nel sonno preparandosi ad una nuova bella calda e luminosa giornata. Il sole un giorno si accorse di quando era attento questo fiorellino e quindi feci in modo di mandargli la luce più bella e calda che poteva proprio per fargli piacere e da quel momento lo vedo proprio così il fiorellino che poi in realtà non era per niente piccolino come può essere un fiorellino anzi, era un bel fiorellone con le foglie larga navide gli steli lunghi lunghi e i petali grandi grandi il sole invece era piccolo appena un chicco ma la cosa straordinaria stava nel fatto che riusciva a sprigionare tutta quella splendida energia luminosa e tutto quel tepone in modo da rendere questo mondo così bello e incantato. Il sole giocava con la luna a ricordersi tutti i giorni e tutte le notti ed era felice ma un giorno di colpo divenne triste il modo perpetuo di sempre gli fece capire che in quello schema non avrebbe mai potuto toccare la luna così come non avrebbe mai potuto inebriarsi col profumo del suo fiorellino fiorellone tanto bello e tanto amato e nemmeno sfiorato se non con la luce e il colore che era capace di mandargli con i più tenere degli abbracci. Il sole si chiese se poteva esserci un modo per toccare la luna e per sentire il profumo del fiorellino che amava perché avvertì il bisogno di realizzare il suo amore e quindi glielo chiese al fiorellino e il fiorellino gli disse guarda se solo tu sole e se solo tu potessi ma per davvero davvero trasformare tutta la tua energia in amore tu potresti realizzare il tuo sogno e quindi non sarebbe rimasto più nello schema del modo perpetuo ma sarebbe potuto andare in ogni dove lungo questo infinito universo perché l'amore e solo l'amore non conosce confini né regole precise se non quelle dettate dalla libertà. Al sole sarebbe tanto piaciuto poter viaggiare in ogni dove e andare a vedere i miliardi e miliardi di mondi che esistevano in questo universo sconfinato ma disse al fiorellino che adesso era di nuovo triste perché da solo non avrebbe avuto senso fare tutto questo e mentre lui sapeva ad essere un chicchetto piccolo piccolo ma con energia inesauribile sapeva anche che il fiorellino prima o poi sarebbe sparito alla fine della stagione come avevo visto fare a tutti gli altri e quindi come avrebbe potuto realizzare il sogno di viaggiare nell'universo col suo fiorellino bellissimo e adorato. A questo punto il fiorellino raccontò al sole un segreto il segreto di questo mondo che poi è quello che muove tutto l'universo e gli disse guarda, nell'universo come qui nel nostro mondo nulla scompare se mai tutto si trasforma e io come ogni fiore che siamo qui alla fine di ogni stagione non facciamo altro che trasformarci in amore e da quel momento possiamo viaggiare fra i miliardi e miliardi di mondi di questo universo infinito. Il sole a questo punto divenne di nuovo felice perché così appena sarebbe finita la stagione sarebbe bastato voler trasformare per davvero tutta la sua energia in amore avrebbe potuto viaggiare nell'universo col suo bellissimo fiorellino fiorellone anch'esso trasformatosi in amore e donati in tutto il calore e la sua energia. Accarezzato per davvero respirare il suo bellissimo profumo portarlo ogni dove e portarsi ogni dove tutti i colori stupendi con i quali si erano dipinti ma il sole si interroga di nuovo e capendo che tutto quel mondo dipendeva anche da lui nel senso che senza la luce senza il colore tutto in poco tempo sarebbe avvizzito ghiacciato nel buio della notte e senza neanche la luce fiorega riflessa dalla luna quindi tornò ad essere triste perché credente che il suo destino fosse solo legato a quel modo perpetuo nello schema infinito e niente più allora chiese di nuovo al suo fiorellino in che modo potesse uscire da questa situazione perché non avrebbe mai potuto sopportare di essere responsabile della fine di questo mondo bellissima e straordinaria perché sarebbe stato davvero brutto far perdere tutte le cose belle di questo mondo per il suo fatto di soddisfare un capriccio o un suo personale desiderio in realtà non era un capriccio un desiderio certamente sì e anche un'aspirazione perché voleva solo essere felice e poi era il cuore del sole che batteva forte forte e questo mosso dall'amore lo stava guidando oltre al fatto che ogni suo desiderio era riposto nei sentimenti che provava per il suo fiorellino e appunto dal desiderio di avvicinarsi a lui e stargli vicino per sempre allo stesso tempo non avrebbe mai tradito quel mondo non avrebbe mai fatto a pizzi ragionare dal freddo nel buio anche al rischio di restare solo e infelice per l'eternità in questo universo non esistevano leggi scritte ce n'era una però l'unica che era accettata e rispettata da sempre e da tutti perché tramandata dall'inizio del tutto ed era riconosciuta valida in ogni luogo e in ogni tempo questa legge diceva sei il tuo cuore perché solo l'amore ti porta alla felicità e tutti hanno diritto alla felicità ma senza di me che fine farà questo mondo meraviglioso questo divenne il tormento del sole e poi ammesso che sarebbe riuscita in questo modo a risolvere questo dilemma c'era anche da pensare alla povera luna che sarebbe rimasta sola triste e gli innamorati come avrebbero fatto senza poter più guardarla con tenerezza e amore chi avrebbe riflesso quella luce soffusa che brilla negli occhi degli innamorati quando durante la notte si dicono ti amo come avrebbero fatto a trovarla nel buio allora il fiorellino guardò il suo sole con infinita tenerezza e capì per davvero quanto questo sole fosse buono e raro perché era così pieno l'amore per ogni cosa e quindi gli parlò con dolcezza se tu sole mio chiedi alla luna se vuole diventare sole la luna vuole allora prendi un pezzetto piccolo piccolo appena un piccolo e donagli tutta la tua energia vedrai che il piccolo di luna diventerà un sole bellissimo e la luna continuerà a carezzare tutti gli innamorati riflettendo con la luce romantica fatta solo fatta solo per loro il sole rimase sorpreso ma soprattutto incantato perché capì che in quel modo poteva davvero realizzare il suo sogno senza procurare danno a nessuno al mondo dove nascono i colori dell'universo e quindi si preparò parlò con la luna gli dire che gli diede subito un chicco di sé perché se così poteva fare in modo che il sole potesse essere felice e realizzare il suo sogno anche la luna ne sarebbe rimasta contenta la stagione a un certo punto finì allora mentre il fiorellino si stava trasformando in amore anche il sole fece la stessa cosa e proprio in quel momento passò una cometa non è però neanche un istante di incertezza il sole e il fiorellino gli si misero in groppa e stretto stretto si appolsero si appolsero fra di loro la cometa divenne la cometa più bella e splendente che si era che si era mai vista e per fargli piacere li portò in una galassia lontana perché lì esisteva un pianeta piccolo di un blu intenso mai visto e striato di bianco questo pianeta lo chiamavano terra anche questo posto era bellissimo tanto bello che né il sole né il fiorellino ebbero mai il distante di nostalgia del posto in cui erano nati pur ricordando con affetto e amore il mondo dove nascono i colori dell'universo e che si erano conosciati alle spalle e per qui c'erano tante cose che non avevano mai visto allora il sole è scelto un posto un posto con una distesa di tantissimi granellini bianchi dei granellini minuscoli che camminarci sopra disolvendicano i piedi vicino a un'acqua immensa che chiamavano mare il sole gli spiegò tutti i sienaggi e il fiorellino si fece il dominare aprendo tutte le foglie e tutti i suoi petali ed è così che finalmente si è tracciato e il fiorellino racchiuse dentro le foglie tutti i suoi petali e il suo sole fino a quando la luce si levò e si accorsero che anche qui c'era una luna che fece bellare i loro occhi innamorati stettero lì tutta la notte e quando la luna salutò il sole di questo mondo chiamato terra proprio mentre il sole si stava affacciando in cielo comparse una nuvola bianca e dalla forma bizzarra la nuvola li guardò e riconoscendo l'amore la loro tenerezza capì che l'amore è universale e in questa infinita tenerezza presa dall'emozione fece cadere una pioggia fresca e leggera per accoglierlo in questo nuovo mondo con uno splendido e straordinario arcobaleno complice al sole di qui che era appena spuntato la luna e il sole della terra lo sapevano che se avessero visto l'arcobaleno solo il fiorellino avrebbero certamente deciso di fermarsi infatti così fu e mentre la magometta andava via leggera e soddisfatta splendente come non mai il sole e il fiorellino restavano lì felici e innamorati per sempre grazie grazie della simpatica risposta che sono in offenza con le casse grazie ancora di aver accettato il nostro invito grazie di essere venuto molto carina la favola e per un altro intervento comunque probabilmente ti inviteremo sicuramente in altre occasioni perché è sempre un valore aggiunto quello di un'esperienza diretta quello di una di una testimonianza anche tramite appunto quindi una storia favolosa benissimo grazie adesso passiamo la parola ad Antonio che invito a raggiungermi stasera vediamo un film ad amore non c'era migliore occasione migliore conclusione per questa rassegna se non parlare concludere con un film di amore e di un amore rosa un amore tutto al femminile parliamo di donne molto spesso l'amore tra due donne viene tacciuto quasi ignorato e invece è giusto dedicare uno spazio interessante come quello brutto di stasera quindi adesso una breve recensione è una breve recensione allora innanzitutto stasera c'è un grande botto è la terza edizione della nostra rassegna non potremmo finire in maniera migliore questa è la seconda palma d'oro nella nostra lista è anche la nostra seconda grande storia d'amore solo che la prima po' bananiche per chi era presente trovavano una sensibilità prettamente europea forse anche un po' violenta un po' brutale perché il sentimento d'amore era tanto più forte quanto più repressi erano i suoi svuoti più oscuri anche con una certa tendenza per le atmosfere soffuse le atmosfere grigie di una Parigi che ne assomiglia tanto a quella città del nord per il maniale che scisce con il suo film praticamente agli antipodi è tunisino e arriva in Francia da normale migrato come tanti in fondo di cui noi sentiamo parlare i nostri telegiornali e impara il francese da autodidatta interessano soprattutto la letteratura prelibertina e quindi a Pierre Marivaux Marivaux che è un personaggio è un autore importantissimo che scalava i sentimenti della corpiezia nascente nel Settecento e che più volte lo ha aiutato a creare storie di donne e amore bellissime non solo per il suo grande amore per il corpo femminile per l'ana femminile ma anche per una concezione sia fisica che metafisica nei suoi altri film come abbiamo visto trovavano l'amore per la famiglia in Cuscus dove Aschia Herzi che è premata a Venezia ballava la danza del ventre per in omore il padrigno oppure in onore alla sua terra alla sua verra madre Sergei Bartman in Venere Nera ballava come sfogo come liberazione come atto di libertà contro gli europei che rastrutavano Adel è un corpo che fa ancora compendio al cinema di Keshish un corpo che cerca la sua anima un amato che cerca un amante e viceversa una dimensione in cui cosa sublimare tutto l'amore tutti i sentimenti che di solito di solito la normalità e anche una certa disettezza mentale non permettono non è forse un film d'amore o un sessuale quanto un film d'amore in senso più estanzo perché dimensioni uomo e donna si intrangono e lui che Keshish insieme al suo bravissimo operatore a fotografia assedia i corpi e li usa addirittura come arma lei stessa per esempio nel grigiore di Lille una città del nord francese scopre il sole scopre la luce ma anche la notte sensuale il sentimento che muove il sole e le altre stelle come disse il nostro grandissimo poeta e lo trova racchiuso in Emma una ragazza che con una semplice pennellata di blu racchiude il senso del mondo la apre alla vita e fa anche capire che la vita non è tutta quanta rose e fiori anche anche quando l'amore e la loro reazione sembra andare avanti lei capisce che pure essendoci tanti pesci nell'oceano il primo grande amore non si scorda mai il film è stato premiato a Cannes da una giuria presiduta da Steven Spielberg ha vinto 5 premi di Lumiere e il Cesar per miglior promessa femminile per Abel e Xarpopulos è il grandissimo protagonista che fa un duetto eccezionale con De Asidou Emma oggetto del desiderio e che erano già state protagoniste del fumetto monimo di Julie Marot che l'ha giocattato la tematica però con risvolti da teen drama anche forse anche un po' parolistici che Cish non punta al drama lacrimoso lui punta alla realtà allo spionaggio dei sentimenti non importa quanto crudi soffusi o confusi siano però non c'è ambiguità né nella carnalità né nell'esposizione della interiorità dei personaggi è semplicemente natura e questo capiamo anche per le atmosfere in cui domina il sole domina la luna una sensibilità che certo europea non è è africana un calore un calore un calore di vestare che pervade l'intero film e che gli dà un senso così come l'amore per Emma dà un senso alla vita di avere che sembrava così confusa nella ricerca e la propria nella ricerca e la propria identità grazie mille per il nascosto a questo punto vi auguriamo un buon film però prima vi ricordiamo che se volete continuare a festeggiare con noi questa conclusione momentanea dell'associazione della rassegna rimanete con noi dopo il film che ci organizzeremo per fare un aperitivo insieme e sì non avete paura un telegrafico al di là della metafora però è giusto dalla Metini un dato un dato sarò brevissimo negli ultimi anni non ci sono almeno tre suicidi alla messia per pressione omofobica e non ultimo un tentato suicidio di un ragazzo perché al di là delle metafore delle situazioni dobbiamo dire da dati concreti non ultimo due settimane fa un ragazzo di 17 anni ha tentato di buttarsi al ponte del torrente Cantagalli quindi al di là di tutto cerchiamo noi che siamo qui questa sera di aprire dei canali al di là le persone di essere spettatori come di essere attivi nel contribuire ad aprire canali di socialità grazie un applauso dobbiamo essere orgogliosi di questa amministrazione come è andata i temi trattati e come continuerà grazie e buon figlio grazie